che non si rifarà un consiglio e riprenderà da loro, però questa cosa, perdonate che io vi sto dicendo è che sta succedendo, seconda questione, signora chiedo un secondo solo, un secondo solo, seconda questione, siccome adesso ci stiamo qui in consiglio e ci state soprattutto voi, che è quello che costa, io vorrei chiedere agli amici consiglieri di immaginate di consentire in modo assolutamente civile una discussione in consiglio regionale pure informalmente, nel quale voi prendete la parola e parlate, io credo che questo accettate questi micro, con le forze del loro, prendete la parola e parliamo, questo episodio di parole, di parlare, di discutere, non di chiudere, questa storia!